Buonasera, questo è un video molto importante se nel caso Denise filtrano delle indiscrezioni in quest'estate silente, ma non tanto, ma non troppo. Filtro indiscrezioni, soprattutto sulla principale indiziata, Anna Corona, e forse sono tre secondi quelli che fanno la differenza, a volte nella vita. Che cosa sono tre secondi? Possono rappresentare nulla o possono rappresentare tutto, ma prima di dirvi l'impostanza di questi tre secondi nella vita di Anna Corona, voglio fare un escursus molto breve sulle dichiarazioni dell'Avvocato Frazzetta, proprio ieri al Grand Hotel Principe di Piemonte, dove ha tenuto una conferenza e ha dichiarato molti segnali ci sono dietro questa storia, ma c'è un'omestà forte. Forse proprio perché toccare i bambini è ripugnante in ogni ambiente malavitoso e ripugnante. E forse proprio perché si è toccata una bambina domestà è forte. Ha sottolineato che nessuno estraneo, è inutile che si voglia dire o si voglia adombrare qualche altro sospetto. Nessuno estraneo quella mattina, in quella strada, c'era Denise con il cuginetto. Chi ha rapito voleva provocare dolore. Poi anche Pier Amaggio dice una cosa molto bella, non ho sete di vendetta, ma sete di giustizia. Chi ha rapito Denise voleva rapire Denise. Non è stato casuale, altrimenti poteva rapire anche il cuginetto. No, non c'era da sbagliarsi. Pier Amaggio insiste su quelle che sono gli indiziati principali, Anna Corona e Jessica. Non sono un caso, lei dice, le minacce dei mesi precedenti, le ruote bucate, l'incendio al negozio della sorella, le minacce continua, la minaccia a Vito Maggio, il papà, al quale venne detta che gliel'avrebbe fatto pagare alla figlia. In un profilo associato a quello di Piera c'è scritto questa frase molto bella. Ve la profilo associato. Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli. questo è veramente molto importante da parte di chi ha combattuto la mafia, da parte di un alto servitore dello Stato. Quindi qualcuno si chiede in questi giorni come mai la procura di Marsala non parla ancora, come mai questo silenzio che fa così il rumore. Però attenzione, è trapelato qualcosa, qualcosa che va al di là di quello che abbiamo detto, i sforzamenti notturni. C'è un focus su tre secondi della vita di Anna Corona. Esattamente quei tre secondi non considerati in passato, perché magari non erano chiari, adesso sono chiari. In questi tre secondi viene detto pronto, stai zitta. È importante perché questa è una intercettazione ambientale in cui una bambina dice è pronto, si trova a casa di Anna Corona e Anna Corona l'è intima di stare zitta. Ora lì c'è Jessica ovviamente, scusa che siano loro perché uno aveva 13 anni e uno 17 anni. Ci sono anche in sottofondo delle altre voci di sottofondo, quindi c'erano anche delle altre persone, non stava solo in casa. Non vi fu questa telefonata, non vi fu un proseguo a questa telefonata. E allora qual è la situazione? Perché Anna Corona disse stai zitta, stai zitta. Vedete, questa è una intercettazione ambientale. Stiamo parlando della casa di Anna Corona. Qualcuno ha equivocato dicendo, no, quella intercettazione sul cellulare, allora sei quella disposta che magari non stava a casa, no? È un'intercettazione ambientale di microspie messe in casa, nell'ambiente. quindi quando la bambina dice pronto e poi si sente stai zitta, poi non si sente nient'altro. Non si sente nella continuazione della telefonata, come se ci fosse stato uno stop, una mano sulla bocca, un silenzio immediato. E ciò che era insignificante all'epoca, perché magari non si sentiva bene, adesso non lo è più. Non lo è più. E quindi la stessa Anna Corona, che non era stata indagata formalmente, perché aveva l'alibi anche del lavoro, eccetera. Adesso, alla luce del mancato alibi, degli spostamenti notturni, e di questi tre secondi che cambiano la sua vita, perché c'è una bambina in casa sua, chi mai può essere se non tenesse. E allora fu il momento, dopo di ciò, fu il momento evidentemente dello spostamento. Fu forse da questo momento che la bambina doveva essere spostata, era diventata troppo pericolosa, troppo pericolosa. E quindi, secondo me, è stato il momento in cui poi è stata messa da qualche altra parte, è stata portata da qualche altra parte. Però come è stata portata da qualche altra parte? Viva o morta? La bambina sicuramente dava molti fastidi. Non era gestibile. Allora si spiega l'altra intercettazione, nella quale Jessica dice alla sorella Alice, la piccola sbattì, è caduta, è sbattuta. Eravamo a casa. La mamma l'ha uccisa, Denise. Le intercettazioni, queste qua, sono state considerate non chiare, non chiaramente udibili nel processo contro Jessica. Forse, non so, la tecnologia non era così sviluppata. Adesso che le intercettazioni sono pulite, appaiono molto chiare queste intercettazioni. Quindi, alla luce di ciò, anche quell'altra intercettazione, dopo i famosi 80 giorni circa, seguenti, dei due Peppe, andiamo a prendere Denise dove la portiamo fuori, certamente può essere intesa come portare via il corpo. Non crediamo, cioè io non posso pensare che per 80 giorni e passa la bambina possa essere stata gestita in casa di qualcuno o di qualcun altro. Magari me lo auguro, ma non credo, altrimenti perché Jessica avrebbe dovuto dire che eravamo a casa e la mamma l'ha uccisa a Denise. Perché l'avrebbe dovuto dire? Quindi l'archiviazione di Anna Corona si basava su un falso. Si basava sul fatto che non erano stati provati i suoi spostamenti notturni. Adesso la superperizia li ha provati. Non era stata provata che lei non fosse al lavoro. Invece non era al lavoro, è stata provata anche per la confessione di Francesca Adamo. C'è questa intercettazione ambientale che è di tre secondi, amici, ma poi non parliamo di fatti nuovi. Io vorrei sempre che osate per quei soloni che ogni tanto vengono a scrivere. Non parliamo di fatti nuovi, ma quando qualcuno scrive, poco informato scrive, si sente la voce di una bambina o di una bambina o un bambino che dice pronto. No, amici miei, in quei tre secondi si sente una bambina perché se uno dice stai zitta si rivolge a una bambina. Se è un bambino dice stai zitto, invece lei chiaramente ha detto stai zitta. Quindi è inutile che si cerca di equivocare, che si cerca di sviare. Non è così. Quindi adesso non si sa se si può parlare di incidente, si può parlare di eccesso e di sedazione. Certo qualcosa è avvenuto e questo qualcosa che è avvenuto giustifica l'omestà, la forte omestà. E questo è trapelato. Questi tre secondi, così chiariti, sono trapelati. La procura di Marsala è trapelata. E questo come pure è trapelato che sotto torchio viene risentita, udite udite, anche Giacomo Pisciotta. Perché vedete, Giacomo Pisciotta sa di più di quello che ha detto. In un primo tempo non ha detto proprio nulla, non sapeva nulla. Poi ha dovuto ammettere a denti stretti di aver sentito movimenti, di aver sentito rumori, di aver sentito la notte costone che sbatte, ma forse dovrà anche ammettere di sapere altro. Perché l'unica inquilina, coinquilina dello sesso stabile sa. 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 La lei sa. E quindi è stata riascoltata anche lei. Quindi si dice rispettiamo le sentenze. Noi le rispettiamo le sentenze. Però è un dato di fatto che Jessica è stata prosciolta, assolta, per insufficienza di prova. E guardate che l'insufficienza di prova è sempre un velo di dubbio che nasce e che uno si porta appresso. Perché la sentenza non si dice che sicuramente non sei stato tu. Non ti dice che sei assolto completamente perché non hai fatto niente. Anzi, ti dice che hai avuto anche il movente, che c'era tutto, ma non è stato dimostrato al di là di ogni dubbio. Questo dice la sentenza. Mentre Anna Corona è stata prosciolta, diciamo, in istruttoria, quindi non è stato fatto nemmeno il processo, perché non vieno gli elementi. Aveva l'alibi e non era stato provato niente. Adesso invece ci sono questi tre secondi molto ben ripuliti. Vi ripeto, è un'intercettazione ambientale che è significativa. Perché? Perché quella telefonata che arriva, poi si sente pronto, stai zitta. Poi non vi è seguito. Vedete, non vi è seguito. Perché se fosse stata comunque un'interlocuzione qualunque, questo volevo spiegare, c'era un seguito, c'era un detto, c'era un qualcosa di ascoltato. Si andava avanti? No. Ci sono questi pochi secondi, poi non c'è più nulla. Si sentono voci di sottofondo, c'è qualcun'altra. Evidentemente la bambina viene zittita. Anche la telefonata non continua, non avviene. Non avviene. La telefonata che era un numero di un'amica, ma poi non avviene. Non si sente più niente. Se uno non avesse niente da nascondere, se uno non aveva niente da nascondere, poteva anche dire zitta chissà chi, ma poi continuare. Invece non ha continuato. E poi non è che l'accusa deve dimostrare che quella voce era di Denise. Attenzione. L'ipotesi è quella. Manna Corona deve dimostrare a casa sua che quella non era Denise. E se non era Denise, deve dire chi era. Perché una voce infantile di una bambina, veramente si vede che è di qualche anno, di pochi anni, non ce n'erano. Non ce n'erano. E allora, o dice chi era, dice chi sei, la figlia di Pingo Pallino. Perché non l'ha detto? Perché quando lei ha ascoltato questa intercettazione, non è intervenuta subito a dire no, un giorno venne, non so, una mia amica con la figlia. Poi, vedete, è tutto poco credibile. perché pure che fosse venuta un'amica, chiamiamola amica, con una bambina di pochi anni, che fai? Questa bambina, figlia di un'amica, dice pronto, e tu sei zitta. non credo che sia ragionevole il pensare che lei si rivolga in questi termini alla figlia di un'amica. era una risposta brutta, una risposta di censura. Quindi non ci prendiamo in giro. In questa estate calda, silente, ci sono tre secondi che potrebbero fare la differenza. Questo è filtrato dalla procura, è filtrato anche un nuovo interrogatorio a Giacomo Pisciotta. Le cose non si fermano qui. Le cose vanno avanti. Ne vedremo delle belle. Grazie dell'attenzione. Alla prossima per aggiornamenti. Ciao a tutti.